Arginare il bullismo con seri programmi di prevenzione, l'impegno delle famiglie e con sanzioni eque. È questa la ricetta basica per un'azione efficace davanti alle azioni di sopraffazione e violenza che nascono e si alimentano negli ambienti giovanili, spesso non riconosciute, non affrontate o non denunciate. Ne è convinta la presidente del CRIAF, il Centro di Riabilitazione Infanzia e Adolescenza Famiglia di Cremona, dopo i fatti che hanno portato i carabinieri a sgominare la baby gang che organizzava risse e pestaggi in città attraverso la pagina Instagram Cremona Dissing. L'ultima eco di questa brutta storia è nella denuncia della mamma di una ragazza 14enne bullizzata dal gruppo e derubata dal cellulare. Vedremo adesso il lavoro, il corso che farà appunto la giustizia in questo senso, però c'è bisogno poi di aiutarli anche a riflettere su quello che hanno fatto e poi il tema delle conseguenze della responsabilità. Sette arresti e 18 denunce per estorsioni, aggressione, rapina ai spaccioli stupefacenti e l'esito dell'inchiesta che ha portato alle disposizioni del Tribunale di Cremona e del Tribunale dei Minori di Brescia. Ma la storia non è finita, resta il dopo, per le vittime, le famiglie e anche per i responsabili. Gli strumenti ci sono, basta conoscerli e usarli, a partire dalle scuole dove sono attivi gli sportelli e dove vengono organizzati i corsi di formazione per i docenti. Il CRIAF con l'ufficio scolastico regionale ha approntato un vademecum con regole contro il bullismo e per navigare i sicuri in internet. Già si sta facendo molto per esempio a scuola perché da la legge 71 in contrasto al cyberbullismo che è quella appunto voluta dal padre di Carolina Picchio perché è la ragazza che si è suicidata perché vittima di cyberbullismo, si è istituito in ogni scuola un docente referente bullismo con cui stiamo lavorando da due anni proprio per la formazione, per incidere fortemente a scuola e contrastare questo fenomeno. Serve poi l'apporto fondamentale delle famiglie nel monitorare l'uso dei cellulari e intervenire davanti a comportamenti di prevaricazione anche tra le mura domestiche o isolamento, comportamenti riconducibili ai profili del bullo e della vittima. Ci sono le famiglie, c'è la comunità da risvegliare, c'è l'attenzione anche appunto di chi poteva vedere e vede questi ragazzi in giro per le strade che colpiscono altri magari più piccoli, quindi è sicuramente un lavoro anche di risveglio che dobbiamo fare e di responsabilità. Non è facile però bisogna essere attenti con quanto genitori, bisogna per esempio essere consapevoli di cosa gira sui telefoni. I genitori o i ragazzi che ho seguito vittime di cyberbullismo si sono rivolti a me perché i genitori hanno guardato le chat, quindi hanno capito per esempio che agivano in maniera da prepotento, che erano vittime.